oggi una bella domenica di settembre finalmente è uscito il sole si sta bene ho deciso di fare un giro nelle langhe a vedere vigne i colori dell'autunno mi sono portato il drone farò qualche voletto c'è un po d'aria speriamo che il vento non sia troppo forte dai andiamo un po d'aria speriamo che il vento non sia troppo forte dai andiamo un po d'aria speriamo che il vento non sia troppo forte dai andiamo non sia troppo forte dai andiamo